Un altro piccolo sogno che si realizza, inseguito da oltre vent'anni da Massimo Marrelli. Calabrodental, la casa di cura odontoiatrica creata dal medico imprenditore prematuramente scomparso nell'ottobre del 2018, potrà accogliere ufficialmente giovani laureandi in odontoiatria dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per effettuare i tirocini formativi. Il rettore dell'Università, Giovanni Battista De Sarro, ha firmato proprio ieri, 4 febbraio, la convenzione con il gruppo Marrelli Health, dando il via ufficiale all'attivazione di questa convenzione tra l'Università e il gruppo imprenditoriale crotonese. Presenti per la firma ufficiale erano la Presidente Antonella Stasi, accompagnata dal management aziendale. Per la casa di cura odontoiatrica Calabrodental e per tutta la famiglia, Marrelli è ovviamente un altro tassello importante che si va ad aggiungere al progetto del grande sognatore. Massimo Marrelli ha inseguito fortemente questo obiettivo nell'auspicio di poter dare un contributo alla formazione di giovani odontoiatri in Calabria. Calabrodental, una delle più grandi strutture sanitarie private dedicata alla cura del cavorale, potrà accogliere i tirocinanti dell'Università di Catanzaro. I futuri odontoiatri calabresi potranno soffrire quindi della struttura sanitaria con 9.000 metri quadri di superficie attrezzata, 50 ambulatori odontoiatrici, un blocco operatorio con tre sale operatorie e professionisti specializzati in ogni branca odontoiatrica e maxillo facciale. Una struttura diventata ormai punto di riferimento regionale da oltre 40 anni e che accoglie oltre 5.000 pazienti al mese. Non perdeva tempo per sottolinearlo, Massimo Marrelli, quell'amore infinito che aveva per la sua terra e per la sua città, lo stesso amore che di fatti metteva nel suo lavoro ed in ogni singola azienda del suo gruppo imprenditoriale. Dei tasselli, così amava definirli, perché ogni traguardo raggiunto era per lui un tassello che si aggiungeva al suo progetto per questa terra, un obiettivo perseguito dalla sua famiglia che nonostante i tragici eventi della vita ha portato avanti e che finalmente è pronta ad accogliere nella struttura odontoiatrica questi giovani tirocinanti calabresi che in Calabro Dental potranno trovare di sicuro professionalità e competenza ma soprattutto un luogo dove il paziente è sempre al centro di tutto perché tra gli obiettivi del medico imprenditore c'era quello di creare una medicina umanizzata, non solo terapia ritagliata sul paziente ma soprattutto capacità di relazione tra medico e paziente perché presso le strutture del Marrelli Health, per dirla con le sue stesse parole, non si cura la malattia ma il malato. Grazie a tutti!